con la leader della generale però è stato comunque nell'ultimo tratto recuperato erano 13 secondi quasi adesso sono 8 e 8 ha staccato Davidova entra con 13 e mezzo il tozio è salita già in 22esima posizione rapidità incredibile e sicurezza di Simone praticamente una serie in apnea però Pirer è ancora lì tempo di shooting time Simone 18 e 8 e le altre due esattamente uguali quindi hanno perso 6 secondi di shooting time errore di Davidova 7 secondi di vantaggio per Simone